ora sto cercando di ripieno non fai schiena ragazzi tutto il corpo eh prima appoggi ora stai la paura che stai stai la tiro con la mani no 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 non gliela mette troppo vicino di no no eh metteci una lamiera davanti un pezzo di pizza ma che cos'è del gioco? no 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 stai tranquillo da pizza Sergio da pizza guarda 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 guarda